Buongiorno, siamo in diretta, stavo salutando il nostro secondo ospite di oggi in videocollegamento, il professore Emanuele Scaffato, direttore dell'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno prof, bentrovato. Buongiorno a voi, buongiorno. Se riuscite a mettere il telefono in posizione orizzontale, se avete la funzione di rotazione, vi vedremo a tutto schermo, facciamo un rapido tentativo, altrimenti lasciamo le cose come stanno. Perfetto, lo può mettere un po' più distante rispetto alla posizione precedente. Siamo dunque pronti per affrontare il tema di oggi, intanto grazie per la disponibilità a trascorrere qualche minuto con noi stamattina. Il tema è di quelli importanti per tanti motivi, parte dei quali appunto li affronteremo insieme, perché parleremo di alcol con i relativi abusi. L'abuso di alcol oggi è una delle emergenze sociali, perché presto detto la facilità di reperibilità dell'alcol in qualsiasi momento della giornata, tutti i giorni della settimana, tendenzialmente un po' da parte di tutti, quindi non soltanto degli adulti, ma anche degli anziani o dei giovani. È vero, dottore? Assolutamente sì. Quello che noi abbiamo rilevato nell'ultimo rapporto epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità è quello che mette in evidenza 8 milioni circa di consumatori a rischio in Italia, sia maschi che femmine, prevalentemente maschi chiaramente, sono circa il doppio delle femmine. Abbiamo anche però verificato che non sono solo consumatori a rischio, di questi ce ne sono 3 milioni e 700 mila circa che bevono per ubriacarsi. Quello che fa preoccupare sono soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione, come ad esempio i minori. Tra i minori noi troviamo 650 mila consumatori a rischio, ma se allarghiamo la fascia di età tra gli 11 e 24 anni ne troviamo 1 milione e 310 mila. Se poi vediamo quelli che si ubriacano, sempre nella stessa fascia di età, ritroviamo circa 728 mila 11 e 24 anni che bevono per ubriacarsi e tra questi all'incirca 110 mila che sono minori. Soltanto una piccola parte di questi, circa 4 mila, si rivolge ai pronto soccorso per essere disintossicati. Gli altri invece rimangono sostanzialmente non sottoposti a quelle che possono essere un'osservazione clinica per verificare se si tratta di un caso oppure di un'abitudine consolidata. Professore, intanto grazie per questa premessa molto importante. Sappiamo però che ci sono appunto bevande alcoliche che fanno parte della nostra tradizione enogastronomica. Ecco, dicendo enogastronomia, penso senza dubbio al vino. Se volessimo vedere l'altra faccia della medaglia, sappiamo che l'alcol fa male alla salute, abbiamo parlato proprio qualche istante fa di sana alimentazione con un altro esperto. Come possiamo, ecco, dove lo troviamo un punto di incontro tra l'utilizzo dell'alcol senza sfociare nell'abuso? Guardi, il concetto di abuso è stato cancellato dall'Organizzazione Moderna della Sanità da vent'anni circa. È l'uso dell'alcol che fa male. Tant'è vero che se io dovessi rivolgermi a quello che è il concetto di consumo moderato del cosiddetto bene responsabile, che poi responsabile non è, soprattutto per i minori che non hanno la capacità di capire che cos'è la responsabilità fino ai 25 anni, quando ci sono gli elementi cognitivi tali da poter capire quello che si fa e quello che è il rischio, beh, diciamo che un bicchiere di qualunque bevande alcoliche, il vino non fa differenza, sono tutte fake news quelle che dicono che il vino fa bene, assolutamente. Il vino non fa bene. Il vino non è un cibo, non è un alimento, è come tutte le bevande alcoliche un elemento che è stato espulso tra i nutrienti fondamentali, se si vanno a vedere i latte. E la sana alimentazione, quella di cui parlavo prima, ci dice che, soprattutto a fronte del rischio di cancro, di diversi tipi di cancro, che insorge già con il primo o secondo bicchiere, come dimostrano ormai tutti gli studi e le revisioni sistematiche, è partita quella che è il beating cancer plan dell'Unione Europea, cioè l'azione contro per battere il cancro, che dice se bevi limita il consumo, ma se vuoi fare la prevenzione del cancro, non consumare la scelta migliore per la salute. L'alcol è un cancerogeno a qualsiasi quantità, quindi si beve per piacere, chi sceglie di bere deve essere informato di non superare quella unità alcolica, quel bicchiere appunto, che può essere accompagnato ai pasti abbattendo l'alcolinia, che è quella che poi determina il rischio maggiore, perché avere uno stomaco pieno di mezza l'alcolinia, quindi un bicchiere non è da negare a chi lo vuole scegliere, se lo vuole scegliere purché sia reso consapevole che anche in quel bicchiere c'è un rischio, quindi piccole quantità, piccolo rischio, chiaramente aumenta con il crescere del consumo. Quindi se volessimo sintetizzare, fermo restando, ecco il livello di consapevolezza deve essere molto alto, io la ringrazio per la sua nettezza, perché è giusto fare chiarezza su argomenti così delicati che poi hanno un impatto diretto sulla salute di ognuno di noi, ecco se volessi sintetizzare, dicevo, un bicchiere al giorno non di più accompagnato appunto da un buon pasto, quindi non bere assolutamente a stomaco vuoto. Poi il panorama degli alcolici è comunque un panorama molto vasto, abbiamo perso momentaneamente la connessione, ma sono fiducioso che la ritroviamo subito, eccolo lì, ecco, sì, sì. Dicevo soprattutto ai minori, soprattutto al di sotto dei 18-21 anni, non è assolutamente indicato consumare qualunque quantità di bevanda alcolica. Ecco, sì, infatti io stavo per arrivare proprio lì, il panorama degli alcolici è molto vasto, dalle bevande a bassa grattazione alcolica fino ad arrivare ai superalcolici. Senza dubbio, ecco, superalcolici, dice già la parola stessa, se tutto questo vale per qualsiasi tipo di bevanda alcolica, figuriamoci per i superalcolici. Mi sposterei dall'altra parte, però, ecco, la birra tendenzialmente ha gradi alcolici più leggeri, possiamo attestarci sempre su un bicchiere al giorno o possiamo fare uno strappo con un bicchiere e mezzo? Mi perdoni se alleggerisco un po'... No, no, assolutamente, anzi è importante saperlo. Allora, dico subito che c'è un'equivalenza assolutamente matematica tra un bicchiere di vino a 125 millilitri a 12-13 gradi, un boccale di birra da 330 millilitri a 4,5 gradi, un superalcolico a 40 gradi da 40 millilitri, sono sempre 12 grammi di alcol. Quindi non esiste la gradazione, esiste il fatto che dipende dalla quantità di alcol che noi ingeriamo. Quindi avere la consapevolezza che un bicchiere di quella bevanda alcolica, quindi l'unità standard per quella bevanda alcolica, corrisponde a 12 grammi di alcol, che l'infegato è in grado di metabolizzare non più di 6 grammi, cioè mezzo bicchiere di bevanda alcolica, ogni, diciamo, a occhio e croce, perché cambia chiaramente da persona a persona, riesce a metabolizzarlo in un'ora. Ci vogliono 2-3 ore per metabolizzare un bicchiere. Se io in quelle 2-3 ore ho aggiunto un secondo bicchiere, addirittura un terzo, sto inondando l'organismo di alcol puro. E l'alcol è una sostanza che è un diluente, un solvente, arriva sulle cellule di membrana e purtroppo porta via i fosfolipidi di membrana. Nei giovani, soprattutto a livello cerebrale, negli adulti, ma anche nei giovani, chiaramente a livello epatico, determinando poi quelle che sono le steatosi epatiche, le steatonecrosi, considerate che c'è un'esplosione di questo tipo di patologie epatiche, soprattutto tra i giovani, e in relazione al cancro, tutti i tipi di cancro sono in diminuzione nella popolazione europea, tranne che nei giovani, dove è in aumento il cancro del seno per le donne e il cancro del colon per gli uomini. Considerate incrementare in un secondo bicchiere il consumo di alcol per una donna significa assumere un rischio superiore del 27% di cancro della non-mella e del 25% per gli uomini per il cancro del colon. Dottor Scafato, io la ringrazio per la puntualità delle informazioni che ci ha dato e per aver esposto l'argomento non solo in maniera così chiara, netta, ma per aver dato la giusta importanza a temi che tante volte sulla scia un po' delle mode, del momento, delle varie tendenze, poi vengono un po' così portati ad avvantaggiare chi evidentemente l'alcol deve pur venderlo. Per cui sono veramente sono veramente felice di questo approfondimento spero di ritrovarla anche in futuro perché è un tema che merita maggiore consapevolezza quindi che se ne parli di più nel frattempo la saluto sperando appunto che sia un arrivederci. Grazie a tutti voi. Noi ci fermiamo ancora per qualche istante ma ci ritroviamo tra pochissimo.